Per sognare un articolo provocatorio sul Corriere della Sera dove si auspica che i contributi al Sud non vengono dati dallo Stato perché non si sa a chi vengono dati e ovviamente vengono spregati. E che ne parlavamo a fa? Questa è una cosa vecchissima, sono ormai svariati e svariati decenni che si va avanti in questo modo, cioè che il Nord fa sempre da asso piglia tutto e quindi sempre a discapita del Nord. Oggi diciamo che anche il governo, i partiti di opposizione stanno parlando di dare al Sud quello che spetta al Sud e questo va stretto al Nord. Non si capisce che in effetti il Paese si salva passando attraverso l'economia del Sud. Ecco ma ci sono diciamo delle mitigazioni in queste dichiarazioni perché ovviamente si parla di non conoscere poi effettivamente la traiettoria di questi fondi perché ovviamente il Nord pensa che la stragrande maggioranza dei fondi che vengono dati al Sud poi vengono distratti da altri. Beh ma il Nord dimentica che in effetti la malavita ormai ha radici dappertutto, anzi io provocatoriamente dico l'inverso. Oggi è più il Nord che in questo senso fa paura che praticamente il Sud perché praticamente, come devo dire, la malavita va a colpire dove c'è maggiore ricchezza e indubbiamente al Nord c'è maggiore ricchezza rispetto al Meridione.